Anche Prato piange David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo morto stanotte a 65 anni a causa di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario per la quale era ricoverato dallo scorso 26 dicembre nel centro oncologico di Aviano in provincia di Pordenone. La triste notizia ha subito toccato il cuore dei pratesi, parte delle origini del giornalista e politico infatti appartengono a Prato. La madre, Rosanna Ghelardi, morta nel 2001, era originaria di Galciana e viveva in via Matteo degli Organi. Dopo il matrimonio con il giornalista fiorentino Mimmo Sassoli si trasferì prima a Firenze dove nacque David e poi a Roma per seguire la carriera del marito. Sua madre però, Eunice Nesti, rimase in città in via Machiavelli ed è qui che il piccolo David ha trascorso molte stati. Ancora oggi vivono a Prato tanti parenti del presidente dell'Europarlamento che tornava in città in ogni campagna elettorale o per altre iniziative politiche, confermando e rafforzando il legame speciale che lo legava a questa terra. In queste immagini a Galciana, in occasione della campagna per le europee del 2009, oltre a incontrare i suoi parenti che mostrarono a favore di telecamera l'album di famiglia, visitò la tessitura dell'imprenditore artigiano Massimo Melani. Da quell'incontro è nata un'amicizia speciale che si è alimentata nel tempo. Ci siamo fatti gli auguri nel periodo brutto, diciamo che lui stava già male, per WhatsApp e nel periodo natalizio. Conoscendo Davide ho visto l'incarnazione della persona che rappresentava in meglio i problemi delle persone, delle aziende, di tutti noi, delle persone oneste. Ti raccontava un aneddoto, è venuto qui a Galciana all'iniziativa elettorale per le elezioni comunali di Prato e? Sì, prese sotto braccio, mi fece fare un giro nel salone e poi disse Massimo vieni con me e ho bisogno di sfogarmi con te proprio per preoccupazione, che era un po' la preoccupazione di tutti noi nell'ambito politico, che le destre potessero avvalersi praticamente di una vittoria. Forte il legame politico, mano anche con la consigliera regionale, l'area Bugetti del PD, che lo ha avuto al fianco in tante battaglie. Ci lascia un esempio enorme di quegli esempi che oggi fanno sì che la politica venga definita ancora bella. Ecco, a persone come Davide noi dobbiamo questo, dobbiamo l'avere incarnato la faccia bella della politica. Cosa migliore che possiamo fare è non dimenticarlo. Anche il sindaco Matteo Bifoni ha espresso profondo cordoglio, ci lascia troppo presto un uomo di valore, da presidente del Parlamento europeo ha fatto un lavoro importantissimo per l'Europa e per il nostro paese, riuscendo al contempo a rimanere vicino anche alla città di Prato con la sua presenza, come ha fatto per tutta la sua vita.